Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 27 ottobre. Insiste sull'Italia una malefica alta pressione e come tutte le altre pressioni purtroppo porterà sì bel tempo, ma anche assenza di piogge, le piogge che attendiamo quasi da 10 mesi. E con l'alta pressione ovviamente ci sarà il fastidio delle nebbie sulla bassa Lombardia, il basso Veneto e il ferrarese, però non ci saranno accumuli di inquinanti, per fortuna. L'unico dato positivo. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno nella norma, nei valori massimi di ordine, mentre farà un po' freddino di notte nel primo mattino. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.